Champagne vero questo qua, eh? Che cavolo! Grazie, grazie. Mettiamo anche questo dentro. Vuela, vuela! Che acqua! Che acqua! Vuoi venire a soggiare? Allora! Allora, andiamo a prendere l'altro. Che dici? Stasera ci hanno portato le corze. E' finito il champagne. Allora, c'ho dietro la mia scorta. Sai guarda che c'ho nella mia cantina? Adesso mi faccio dare la mano da lui, aspetta. Va bene, dai. Tante le volte, sembra sempre la storia. Tanto che sembra roba buona, eh? Ma cos'è sta roba qua? Guarda qua, stanno le olio. Ma questo... Non esce qua. Eccolo lì. Eccolo lì. Siete sicuri? Buona, buona. C'ha le bollicine qua le giuste. Perfetto. Perfetto. Grazie a tutti.